Buongiorno a tutti, come dicevo a Denis Masetti, ho fondato 20 anni fa Blue Financial Communication e da pochi mesi, dall'11 dicembre del 2015, siamo quotati in borsa, quindi un'esperienza molto recente. L'obiettivo nostro è quello di essere un attore in un mercato molto difficile che è quello dei media. I media stanno vivendo una crisi di identità che è cominciata alcuni anni fa, soprattutto con l'arrivo di internet che ha creato un mix strano fra ciò che è digitale e ciò che è tradizionale. Quindi noi abbiamo dovuto scegliere e nel dover scegliere abbiamo scelto di stare in mezzo, prendere media tradizionali come i giornali, ma declinarli attraverso una logica che è una logica orientata al futuro, quindi sempre più digitale. La nostra scelta è stata quella di essere concentrati in un target ben definito ed è il target dei servizi finanziari e informazione finanziaria. In questo momento in Italia ci sono tre soggetti quotati in borsa attivi in questo mercato, sono il Sole 24 Ore, Classe Editori e appunto Blue Financial Communication. Ovviamente noi, essendo più piccoli, essendo nati dopo, abbiamo la necessità di concentrarci e di essere più verticali possibili. Quindi la nostra storia è quella di essere comunque indipendenti e vicini ad un mercato che è il mercato che noi crediamo quello che sta crescendo di più in Italia e forse nel mondo, cioè il personal business, i prodotti finanziari, i prodotti gestiti. Immaginate cosa succederà con i fondi pensioni e con tutti gli strumenti legati al risparmio. Noi vogliamo dominare e essere leader in quest'area. Per esserlo, oltre all'ambizione di esserlo, ci vuole anche la capacità di esserlo e le nostre competenze vengono da lontano. I nostri collaboratori hanno lavorato nelle testate più importanti e vent'anni fa quando siamo nati ci siamo concentrati su prodotti che erano prodotti allora abbastanza innovativi. Comunque abbiamo lanciato il nostro primo sito Blue Rating nel 1997, abbiamo fatto un accordo con Bloomberg per lanciare un settimanale che si chiamava Bloomberg Investimenti, di cui noi eravamo soci, poi abbiamo lanciato Advisor, che abbiamo ceduto alcuni anni dopo, Soldi, Blue Rating e poi ci siamo quotati. Vi racconterò un po' meglio quali sono i nostri prodotti attualmente. Sostanzialmente abbiamo tre linee di prodotto, Blue Rating, Private e iFinance. Blue Rating si rivolge alle reti, alle banche e alle società di gestione. Viene inviato tutti i mesi ad oltre 10.000 società, sostanzialmente le banche e gli sportelli bancari, le reti di promotori finanziari e tutti gli attori del risparmio gestito. Lo diamo anche in Edicola e riteniamo che l'Edicola sia un punto di vendita importante, ma non è il futuro di questo tipo di pubblicazioni. Noi vogliamo presidiare il settore e chi pubblica informazioni o pubblicità su Blue Rating sa che arriva certamente al punto di vendita che è rappresentato dall'agenzia bancaria o dalla rete di promotori finanziari. Il secondo mercato che ci interessa, che sta nascendo molto importante, è quello del Private Banking. L'anno scorso abbiamo lanciato Private, che è un mensile, che si rivolge ai professionisti, a una categoria che sta crescendo ed è molto importante e che crediamo crescerà ancora con la normativa in essere in futuro. Per quanto riguarda l'ultima linea di prodotto che lanceremo il mese prossimo, si chiama iFinance, riguarderà tutto il mondo del FinTech e del Digital Business. Vediamo nel dettaglio cosa significa per noi produzione integrata, media tradizionali e media innovativi. Per quanto riguarda Blue Rating, noi abbiamo un magazine, produciamo siti, yearbook, newsletter, applicazioni, gestiamo eventi. Tutto questo per il nostro cliente. Quindi quando il cliente viene da noi non trova la pubblicità, ma trova un sistema informativo completo. Queste sono le copertine dell'anno scorso, solo per darvi un'idea dei soggetti che noi trattiamo. Non sono come il vino, è nata, ma interessanti sicuramente. Per quanto riguarda i progetti dell'anno, noi abbiamo lanciato lo yearbook di quest'anno. Stiamo lanciando progetti speciali con clienti che ce lo chiedono, evidentemente. Stiamo lavorando per sviluppare tutta quella che è la tecnologia per fare roshore virtuali e per portare la consulenza e i prodotti dove questi devono essere portati, cioè nel punto di vendita. Per quanto riguarda private, l'anno scorso, come vi dicevo, l'abbiamo lanciato. È un'attività che abbiamo lanciato in novembre, quindi due magazine abbiamo portato avanti. Quest'anno però il progetto va avanti e abbiamo tutta una serie di iniziative che riguardano l'edizione internazionale in inglese, lo yearbook, il nostro sito, le applicazioni, il mobile. Lanceremo dei forum itineranti e anche gli awards che sono previsti a fine di quest'anno nella sede della borsa italiana, quindi premieremo le eccellenze del private banking. Tutto questo progetto riguarda un mondo che è vicino a quello di Blue Rating ma è diverso perché banche d'affari, venture capitalist, soggetti attivi nel mondo private hanno delle esigenze sostanzialmente diverse di comunicazioni. Per quanto riguarda invece il mondo digitale e dell'iFinance, noi abbiamo lavorato negli anni scorsi per creare un mondo di utenti interessati alle nostre pubblicazioni. Alcune cose hanno avuto successo, alcune meno, alcune le abbiamo lanciate di recente. Calcio in borsa per esempio è un modo per investire in borsa in modo divertente perché abbiniamo i risultati calcistici a quelli dei titoli quotati in borsa, ma il nostro punto di forza è comunque SoldiWeb che è un sito che ha oltre 100.000 registrati in questo momento e che tutte le sere ricevono la newsletter di MySoldi. I progetti per il 2016 però sono molto importanti nell'area dell'iFinance e del mondo legato al fintech. È una parola magica, noi stiamo lavorando per creare un marketplace che annunceremo al mercato nei prossimi mesi, nel momento opportuno evidentemente quando sarà pronto e per lanciare questo magazine come vi dicevo che sarà invece in edicola il mese prossimo, iFinance. Per quanto riguarda il nostro titolo in borsa, noi siamo nati pochi mesi fa, è stabile, il mercato non è che ci abbia aiutato molto perché negli ultimi mesi i mercati non erano così brillanti. La nostra crescita è costante, i nostri progetti di crescita confermati e tutto quello che noi stiamo facendo in questo momento ci consente di dire che il nostro posizionamento come società leader in questo mercato è un posizionamento che ci sentiamo di confermare, soprattutto dando un taglio internazionale a quello che stiamo facendo e orientandoci sempre più verso l'area digitale. Quindi finanza, informazione finanziaria ma in un'ottica innovativa e soprattutto se ci riusciamo di leader in segmenti limitati ma dove vogliamo essere i numeri uno. Grazie per l'attenzione.